Domenica 14 gennaio 2018 ci troviamo al nuovo di Via Olimpia per la prima giornata di ritorno del campionato provinciale allievi. Oggi scenderanno in campo la Virtus Castelfrentano con la classica divisa giallorossa e l'Ortona Calcio con la divisa gialloverde là in fondo. Questi sono i ragazzi del gruppo che partiranno dalla panchina, sono un po' misti, qua il blocco dei titolari, abbiamo Macci con il numero 15, 18 Nicolò, 16 Renzetto, 14 Luca Rulli che ieri ha fatto due gol con il San Buceto Calcio, in porta abbiamo Matteo e il secondo portiere Domenico. ecco il blocco dei titolari, ecco il nostro Nicola Perrucci, Cristian, Lele, il nostro Teidi, Mata in borghese, se si sta rimettendo sta in convalescenza. all'altro lato c'è l'Ortona Calcio, squadra molto forte, al girone all'andata si hanno battuto per 4 a 1, qua abbiamo mister Giovanni, a posto, si potete essere buona, non c'è bisogno, ah ok, a buona allora, buona, a posto, ecco il nostro Giovanni, mister dei giovanissimi, abbiamo mister Francesco, Nicolò con il numero 18